I colori della Classic Course Everwise AS con Vincenzo Gallo Cisternino al training e signor Michele Coccia alla proprietà Numero 3 Eastban Leone Team Squeglia, Michele Di Maro per il training Team Tony Trans alla proprietà Gaetano Di Nardo in Salchi Numero 4 Hermes Cuff, Antonio Simioli per il training di Vincenzo Palumbo I colori della Orlando Stable Numero 5 Nea SL Francesco Tufano da Catch Gennaro Casillo al training I colori della Spallina Numero 6 Epcot B Arda Consulting Pierluigi D'Angelo Al training e alla guida Con prudenza Nea SL Epcot B Anche Everwise AS parte piano Eastban Leone attaccato a largo Da Hermes Cuff i due appariti all'imbocco della prima curva Poi il figlio di Ideale Luis sopravanza all'avversario Lancio in 12 e 9 Hermes Cuff completa la prima piegata In un sostenuto 28 e 2 Lo segue Eastban Leone Terza posizione per Eletta Star Si mette sulle gambe Nea SL Che si avvicina ai primi Trova l'anticipo di Eastban Leone Eastban Leone sposta a destra E parcheggia ai lati del battistrada 600 in 44 e 2 Eastban Leone affianca Hermes Cuff Lungo i paletti Eletta Star Seconda pariglia per Enea SL Che in curva perde qualche battuta Adesso Eastban Leone impegna severamente Hermes Cuff Chilometro ultimato in 1'14 e mezzo Si muove anche Eletta Star Che segue Eastban Leone In bocco della piegata conclusiva Hermes Cuff ha controllato il primo tentativo di Eastban Leone Che però continua a lavorare ai fianchi l'avversario Non si ingamba Enea SL Tre quarti di miglio in 1'28 e 2 13 e 9 di frazione In ingresso in retta d'arrivo Hermes Cuff alle prese con Eastban Leone Hermes Cuff di dentro Eastban Leone di fuori Gran bella lotta tra i due Accesa testa a testa Poi alla fine Eastban Leone appariglia l'avversario Che prova a difendersi sul traguardo Un muso per Eastban Leone Su Hermes Cuff e dell'Eta Star Delude Enea SL 1'55 e 3 il totale C'è 11 per il chilometro finale Media di 1'12 e 1' Questo cavallo Questo Sauro da Tusulanchiu E Rilly Blessed In periodo di gran spolvero Quest'oggi la vince con mille metri di fuori Fa un autentico numero Ennesimo successo Per il portacolori Del team Tony Trans Team Squeglia per il training E Gaetano Di Nardo Che sapeva il fatto suo Ben conscio Delle potenzialità Del suo allievo Tengono e colore Tengono e colore Tengono e colore E A ton l'ultimo Ero In00